Ciao, sono Ilaria, sono la figlia del titolare Pirollo Danilo, lavoro in azienda da circa 4 anni e mi occupo della parte amministrativa. L'azienda è stata fondata nel 1982 dall'esperienza di mio padre come dipendente in un'azienda metalmeccanica della zona. Attualmente l'azienda conta 14 dipendenti, soddivisi tra produzione e ufficio tecnico. Sono Guglielmo Scatolon, sono responsabile aziendale della Pirollo Danilo. Ci occupiamo di tornitura e fresatura su commessa secondo le specifiche del cliente che ci fornisce il disegno del prodotto finito. Lavoriamo diversi tipi di materia prima, dal titanio all'alluminio, dai polimeri all'acciaio inox e questo ci ha permesso di entrare in diversi settori, dall'automotive all'aerospaziale, dall'alluminio tecnico al medicale e farmaceutico. La qualità del prodotto è garantita dal personale dedicato che si occupa della misurazione e della certificazione del prodotto finito anche attraverso la macchina di misura coordinate. Nel 2013 l'azienda, per venire incontro alle esigenze del mercato che cadeva a tempi di risposte più brevi e prezzi più competitivi, l'azienda decide di comprare un CAD CAM semplice da usare ed intuitivo. Siamo clienti Sprutcam dal 2013, inizialmente sono state acquistate quattro licenze da utilizzare sia in produzione che in ufficio tecnico. Ciao, sono Luca, responsabile della programmazione dell'azienda Pirollo Danilo. Uno dei punti forti di Sprutcam è che ci permette sia di gestire torni semplici che macchine a cinque assi rendendo facile la programmazione. Con Sprutcam riusciamo a gestire nove torni in officina, tra cui due Mazac Integrex a cinque assi, uno SmartTurn e diversi bigli a quattro assi e due torrette. Il tutto è gestito da quattro licenze, due in ufficio tecnico e due in officina a bordo macchina nell'eventualità di fare una modifica veloce. Avendo pezzi similari da produrre, il software ci permette di sostituire la geometria all'interno del programma e ricalcolare in maniera veloce tutte le lavorazioni da eseguire. Grazie della collaborazione con l'assistenza tecnica che ci ha fornito le cinematiche e i ritorni in officina, riusciamo a simulare tutto il processo produttivo ed eventuali collisioni macchina. Utilizzando Sprutcam da sette anni, l'azienda è cresciuta molto dal punto di vista qualitativo. Realizzando i pezzi sempre più complessi e in minor tempo, siamo riusciti ad accontentare le richieste dei clienti più esigenti e prestigiosi. Siamo stati felici di ospitarvi e spero che la nostra realtà vi sia piaciuta.